Ricorre al Tarri, il Venezia Terminal Passeggeri, a due mesi dall'applicazione di divieti che regolano e vietano il passaggio delle grandi navi in Bacino San Marco. Sotto la lente l'ordinanza della Capitaneria di Porto, giudicata immotivata e per la quale si richiede l'immediata sospensione. Motivata parzialmente, spiega Sandro Trevisanato, presidente VTP, se non parzialmente per motivi estetici. Difetto di istruttoria, di proporzionalità e via dicendo, tutti i presupposti dunque secondo il Terminal Passeggeri per chiedere l'immediata sospensione e poi l'annullamento del provvedimento dell'autorità marittima. I numeri certo sono importanti, 101 passaggi in meno davanti San Marco, corrispondenti a 100-150 mila passeggeri, insieme ai 446 traghetti spostati a Fusina. In pratica la metà del mercato che se ne va e nel 2015, con il divieto per le navi sopra le 96 mila tonnellate, saranno dolori. Il rischio dunque è grande, considerando anche la lentezza del procedimento per la scelta della via alternativa e lo scavo del canale Contorta Sant'Angelo. Il rischio, spiega Trevisanato, se non c'è il canale è che il danno ineluttabile nel 2015 diventi definitivo con la morte di un successo. Per il 2014 VTP conta già una perdita di 82,5 milioni di spesa diretta e dell'indotto, con circa 800 dipendenti a rischio. E nel 2015, ancora peggio, a rischio 250 posti e 260 milioni di spesa gettati in acqua. Insomma, un danno per cui VTP prova a correre ai ripari con il ricorso al TAR.